Musica Allora sono andata prima in Africa e ho preso le polpettine di pesce che sono buonissime, che sono buonissime, che sono buonissime. In votini prima vela, vado la vapore, dentro ho visto vetture anche con uova insieme. Ho preso le polpettine di pesce, in votini prima vela, che sono buonissime, che sono buonissime.